E' tutto chiuso, non c'è modo di entrare né di uscire. Maledizione, siamo in trappola. Che roba è questa? La tossina di Joker. Ascoltate, la stanza è piena di gas velenoso, chi resta dentro morirà. Hai intenzione di andare ad aiutarli, Batman? Oddio, oddio! Perché fanno tutto questo rumore? Oddio! Stanno morendo tutti! Credo di aver visto qualcuno ancora vivo nella stanza. Questo non è un semplice tentativo di evasione. Joker deve aver ben pianificato tutto questo. Da questa parte, per favore! Aiutatemi! Per favore, aiutatemi! Da questa parte, per favore! Aiutatemi! Per favore, aiutatemi! Da questa parte, per favore! Andrà tutto bene, resta qui. E' arrivato Batman! Cerca di resistere ancora un po', Steve! Non ce la faccio! Fra poco cado! Vado a cercare l'animale che ha fatto tutto questo. Batman! L'impianto di estrazione! Steve stava cercando di raggiungere la centralina in fondo alla stanza! Grazie! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti